intanto parliamo dei formati di ebook faccio una piccola premessa non dobbiamo confondere cosa che a volte succede l'ebook, cioè il libro digitale con l'e-reader l'e-reader è quello strumento che ci permette di leggere l'ebook è uno degli strumenti perché sappiamo bene che l'ebook lo posso anche leggere tramite un pc tramite un portatile o anche tramite un tablet l'e-reader in realtà assomiglia ad un tablet in questo caso nella foto vedete un ipad in realtà un e-reader è migliore per la lettura di un ebook perché riesce a dare la stessa sensazione all'occhio della lettura di un libro cartaceo il display è fatto in modo particolare la retroilluminazione il display è ruvido da quella sensazione all'occhio che non stanca la vista cosa che invece succede ad esempio con un ipad o un tablet con sistema android dove lo schermo tante volte è lucido gli ebook possono avere quindi il libro digitale può essere di formato testuale può essere un insieme di immagini come può essere anche un audiolibro anche gli audiolibri vengono inseriti nella categoria dei libri digitali ebook chiaramente che la famiglia più grande degli ebook sono quelli testuali esistono tuttavia formati testuali ideali per gli ebook e formati non ideali dopo vedremo quali sono questi formati non ideali nella slide successiva ci sarà un elenco sostanzialmente di quelli non ideali ho messo i principali perché non sono ideali? beh, non sono ideali perché non sono stati studiati per gli ebook hanno però un vantaggio che è quello di essere formati comuni l'esempio classico è il pdf il pdf non è stato studiato per gli ebook non rientra fra i formati testuali ideali per una serie di motivi vediamo che qui nell'elenco l'ebook il libro digitale soprattutto quando lo utilizzo tramite un e-reader dovrebbe avere la capacità di adattarsi al nostro schermo e alle esigenze degli utenti se abbiamo provato qualche volta ad utilizzare un ebook su un e-reader vedremo che l'ebook si adatta alle dimensioni dello schermo che stiamo utilizzando gli altri vantaggi scusate, gli altri svantaggi sono che il formato testuale dei formati più comuni non hanno generalmente una compressione di testo quindi sono file molto più pesanti quindi difficilmente utilizzabili con hardware diciamo povero di risorse come potrebbe essere un e-reader anche se esistono diversi e-reader ormai che hanno poco da invidiare ad un tablet di media fascia e soprattutto come vi dicevo l'ebook fatto con formati testuali con i formati più comuni generalmente non si adattano a schermi piccoli questo vale anche per i pdf i formati testuali non ideali qui vi ho messo una serie di i più conosciuti un file HASHI il file HASHI non è altro che un file TXT cioè un file semplicemente con delle parole con dei caratteri i file CHM sono le famose guide offline di Microsoft sui sistemi Windows i file HTML anche se vedremo poi che il formato ideale per gli e-book è un derivato del concetto dell'HTML e dell'XML i file DOC non sono assolutamente ideali i Postscript, l'RTF, TEX e i PDF anche se troviamo degli e-reader che sono in grado di gestire i file PDF non è lo strumento ideale per creare un e-book esistono però chiaramente dei formati testuali ideali e lo sono perché sono stati progettati progettati appositamente per i libri digitali sono adatti a qualsiasi supporto perché non sono esosi di risorse e poi vedremo anche perché offrono e questa è una cosa voluta chiaramente dalle case editrici offrono la possibilità di essere protetti dalla copia illegale il famoso DRM è la protezione che sostanzialmente è stata voluta tramite dalle case editrici per far sì che l'e-book non venga copiato tramite pirateria sostanzialmente qui apro una parentesi per spiegare che quello che è un po' il DRM è quello che è un po' diciamo la difficoltà maggiore nel gestire i file protetti è più che è soprattutto nel prestito uno dei problemi con cui si scontrano le biblioteche scolastiche ma le biblioteche comunali quando vogliono attivare un servizio di prestito digitale anche affidandosi a gestori ce ne sono un paio in Italia importanti si scontrano proprio con il problema del prestito questo è dovuto perché la disciplina giuridica italiana considera l'e-book non come un libro e quindi io acquisto il libro e lo posso prestare al di là del fatto che sia protetto o non protetto lo posso prestare per un mese due mesi invece la giurisprudenza lo considera un'applicazione quindi è soggetto a tutto quello che è la normativa delle applicazioni con le licenze e così via con le licenze di utilizzo ecco perché generalmente ad esempio un e-book con DRM lo posso dare a un'altra persona però avrà una limitazione che generalmente una limitazione temporale che generalmente è di 15 giorni un consiglio che di solito do alle biblioteche che vogliono attivare un servizio di prestito digitale è quello di anziché prestare l'e-book di prestare invece l'e-reader l'e-reader è un'apparecchiatura che io posso prestare sul quale io vado a mettere degli e-book magari potrei fare degli e-reader per categoria per non so fantascienza gialli classici e così via e prestare lo stesso l'apparecchiatura in questo modo aggiro sostanzialmente quello che è il problema della protezione e più che altro il problema del prestito legale lo svantaggio purtroppo dei formati testuali ideali è che generalmente sono proprietari ad esempio il famoso Mobi utilizzato da Kindle da Amazon è un formato proprietario tuttavia esiste un formato è un formato aperto è l'e-pub l'e-pub noi quando scarichiamo acquistiamo un libro digitale da internet tante volte vediamo che lo posso scaricare in formato pdf piuttosto che in formato Mobi alcuni gestiscono anche questo formato naturalmente Amazon principalmente ma posso acquistare anche un formato e-pub il formato e-pub è sicuramente il formato ideale è il formato per eccellenza per un libro digitale primo perché è un formato aperto secondo perché lo posso utilizzare su qualsiasi piattaforma su qualsiasi sistema hardware e sistema operativo quali sono le caratteristiche dell'e-pub allora intanto ha un'estensione e-pub è un formato aperto come abbiamo detto assomiglia molto a quello che è il formato di LibreOffice in quanto è una derivazione del dell'xml e quindi è un linguaggio è scritto con un linguaggio a marcatori consente di ottimizzare il testo in base sia al dispositivo che viene utilizzato per la visualizzazione ma anche l'utente può gestirlo e modellarlo in base alle sue esigenze può includere metadati può includere grafica sia di tipo raster raster sono le foto ad esempio jpeg delle macchine fotografiche può includere grafica vettoriale la grafica che possiamo ad esempio realizzare tramite le figure geometriche di LibreOffice Draw come vi dicevo può supportare il DRM quindi la protezione dell'e-book utilizza può utilizzare anche i file CSS gli stili scusate CSS non sono altro che gli stili per dare una formattazione al testo alla possibilità di incorporare il font con strumenti avanzati di creazione di e-pub posso anche inglobare il font all'interno del mio e-pub nel caso in cui ad esempio abbia utilizzato un font particolare non il font classico che potrei trovare di 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 Grazie a tutti